Dovranno rispondere di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale le due persone arrestate dalla polizia di Barletta al termine di un inseguimento e di una colluttazione costati diverse contusioni agli stessi agenti coinvolti nell'operazione. Una terza persona, già identificata, è invece riuscita a sfuggire all'arresto. Il campo di marijuana scoperto dai poliziotti la scorsa settimana era nascosto tra i canniti di Contrada Paludi nel territorio compreso tra Barletta e Trani. Gli agenti sono rimasti in appostamento tre giorni prima di riuscire a sorprendere in flagranza di reato i tre malviventi che si stavano occupando di irrigare la coltivazione di cannabis. Alla vista dei poliziotti hanno tentato la fuga ed una volta raggiunti non hanno esitato ad avviare una colluttazione che li ha visti avere la peggio. Solo uno dei tre malviventi, comunque identificato dagli agenti, è riuscito a sfuggire alla cattura. Il terreno, sorvegliato tramite alcune fototrappole, era fornito di un sistema di irrigazione collegato ad un motore che si approvvigionava di acqua da un pozzo artesiano. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare l'intero campo di coltivazione, oltre allo stupefacente già estirpato dai tre malviventi, consistente in 18 rami di pianta di cannabis dell'altezza di un metro ciascuno. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Trani.